7 4 4 4 4 4 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 8 9 9 10 10 10 19 15 10 10 10 10 10 11 10 12 13 21 22 21 22 23 24 24 non cazzo ma è attaccato il cuore ti devi prenderlo qui secondo me adesso si dice naturalmente è di ricerca il tempo è preso per 118,633 è Manu è Manu vai Manu è 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 Manu